Buongiorno a tutti, bentornati nella mia rubrica. Avete mai pensato di analizzare un po' il Glock nella sua traiettoria? Beh, oggi con i Citraeus Lynx andremo a fare proprio questo. Guardate. Buongiorno a tutti. Come avete visto grazie al Citraeus Lynx l'allineamento avviene sempre in diagonale, in questo caso su una linea che va dal punto 1 al punto 3. E ovviamente l'allineamento circolare è fondamentale per prendere un po' il peso. Grazie per avermi seguito e vi aspetto con tante altre...